L'immersione prende nome da un antico punto di avvistamento fortificato, posto in alto sulla costa. La parete sommersa scende a precipizio per i primi 20 metri, poi forma un breve terrazzo su cui spiccano ciuffi di posidonia, quindi riprende l'andamento verticale fino a terminare a 38 metri dalla superficie. La partenza del percorso subacqueo è alla base della boa galleggiante dell'area marina protetta di Portofino. Raggiunto il fondo, occorre dirigersi verso Ponente, fino ad incrociare lo scalino che dà origine alla parete della torretta. Peculiarità dell'immersione è la quantità incredibile di rami di gorgonia russa, che hanno colonizzato ogni centimetro quadrato di roccia. Nel periodo estivo, i più fortunati e attenti potranno osservarne la riproduzione. Durante la risalita, spugne e spirografi adornano i contorni delle rocce. L'immersione termina in una piccola ansa, a ridosso della punta, dove, sovente, si incontrano banchi di salpe e saraghi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.